Le sirene dell'auto dei carabinieri hanno messo in allarme questa mattina intorno alle 8 i cittadini dei comuni di Sant'Arsegna e San Pietro Altanagro. I carabinieri della stazione di Polla, infatti con immediatezza, sono arrivati sul posto dell'incidente che si è verificato a San Pietro Altanagro. Qui, nei pressi di una curva, a qualche centinaio di metri prima del cimitero comunale, un'automobile guidata da un uomo del Vallo di Diano si era capottata. L'impatto ha provocato anche la rottura di un tubo del gas di un'abitazione. Il sinistro si è verificato in via della sorgente. Fortunatamente la persona coinvolta è uscita illesa dall'automobile. Sono in corso intanto gli accertamenti del caso per capire cosa abbia provocato il sinistro.